Tre plessi scolastici chiusi, la primaria a Scarsella di Santa Margherita Ligure è a seguire gli asili a Ne e Ribasso. 434 provvedimenti di quarantena, ovvero classi che a causa di uno o più casi di studenti positivi al Covid sono state lasciate a casa. La prima fu una classe dei liceti di Rapallo. Riparte da questi numeri relativi allo scorso anno la scuola nel Tiguglio in tempo di Covid. Mercoledì ci sarà il suono della prima campanella e la macchina della ASD4 è già in moto per garantire per quanto possibile il regolare svolgimento delle attività didattiche. Si riparte sulla scia del settembre scorso tutti in classe con l'arma in più di una copertura vaccinale che oltre a essere obbligatoria per il personale scolastico ha superato la percentuale del 60 per cento per la fascia 12-18 anni. La scuola riparte con le stesse modalità con cui l'avevamo lasciata quindi anche con gli stessi moduli tanti dirigenti scolastici si chiedono se la modulistica per i certificati di riammissione è la stessa identica. Non cambiano le procedure nel caso ci sia il caso di un alunno positivo in classe. Scatta la segnalazione alla ASD che mette in moto la macchina del tracciamento dei contatti e pone la classe in quarantena. Da quest'anno cambiano alcune tempistiche. Per chi non è vaccinato e non vuole effettuare un test antigenico di verifica è il periodo di quarantena di 14 giorni che scende a 10 per chi effettuerà invece l'esame. Per i vaccinati, sempre che effettuino un tampone di controllo, i giorni scendono a 7. Per loro, come già succede per tutti, adesso il periodo di quarantena è ridotto a 7 giorni quindi noi differenzieremo a questo punto la quarantena del singolo in base allo stato vaccinale. Sul fronte dei tamponi per quanto riguarda l'ASL4 il punto di riferimento attivo è quello della colmata amare di Chiaveri mentre in ASL4 non partirà ancora lo screening attraverso le scuole sentinella e i test salivari. L'auspicio è che il lavoro di squadra messo in campo lo scorso anno e che ha permesso di limitare il numero dei provvedimenti di quarantena possa ripetersi anche nel corso dell'anno scolastico in partenza fra poche ore. Se ci sono state tutto sommato delle chiusure limitate delle classi è anche stato grazie al fatto che c'è stata una segnalazione tempestiva delle famiglie dei casi sintomatici, della scuola che ha intercettato le possibili criticità e dei medici di famiglia e dei pediatri che hanno mandato a verifica tutti i loro pazienti. Una segnalazione tempestiva permette di prendere in carico subito la situazione e quindi permette che la cosa venga risolta nel migliore tempo possibile.